Provi a votare? No, 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 non estragga la tessera, per carità, se no ricominciavo da capo. Provi a votare direttamente dentro la pulsantiera. Perfetto. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Ora, noi non possiamo fare l'articolo 21 perché abbiamo accantonato un emendamento. Dovremmo passare all'articolo 22, poiché gli interventi previsti da tale articolo sono finanziati ai sensi del comma 3 a valere sulle risorse di cui è all'articolo 21, la cui votazione è stata accantonata, dobbiamo accantonare anche l'articolo 22. Prima di passare all'esame dell'articolo 23, passiamo ad esaminare gli aggiuntivi a pagina 278, sui quali chiedo i pareri. Prego, relatrice. 22.01. Sì. Invito a ritiro parere contrario su tutti. Perfetto. Governo. Conforme e al relatore. Conforme. Allora, passiamo ai relatori di minoranza. SEL, Lega e 5 Stelle. 21.01. SEL. 22, scusi. Punto 01. Mi rimetto all'aula. Aula. Lega. Contrae, lo io. 5 Stelle. Favorevole. 22.04, che è a pagina 282. SEL. Favorevole. Lega. Contrae, lo io. 5 Stelle. Favorevole. E poi l'ultimo 22.07, a pagina 284. Aula. SEL, Aula. Lega. Contrae, lo io. 5 Stelle. Contrae, lo io. Contrae, lo io. Perfetto. Allora, a questo punto ritorniamo al primo, che è il 22.01. Ce l'invito a ritiro parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Grazie. 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 Grazie.